Oggi per me è una giornata speciale. Ti ringrazio che sei qui. Non so se tu hai mai sentito la mancanza. Se hai mai sofferto come ho sofferto io per te. Tota l'altra è riuscita a superare. Come? Il fatto che voleva una mamma. Se lei chiude la busta, io non voglio più star male. Voglio ricominciare io, voglio che ricominci lei. Adesso, quando lo vedi, che effetto ti fa? Adesso le sue abbraccia del mio padre. Maria De Filippi. C'è posta per te. Sabato, prima serata, Canale 5.